Il cantante era in vacanza con la moglie Santo Domingo e ne aveva approfittato per fare un giro in bici tra le piantagioni di canna da zucchero quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. A dare la notizia ai suoi fan è stato lui stesso pubblicando due video su TikTok dove spiega che dovrà essere operato. Giovanotti fa malissimo, nelle immagini postate su TikTok Giovanotti appare sul lettino dell'ospedale. Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti dice il cantante, fa malissimo, fa un male bestiale però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani forse mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio. Devo operarmi spiega il cantante, ho chiamato Fabrizio Borra il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto qui va operato, è un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo però insomma sono qua, sono vivo, sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto mi faranno un po' di energetici e spero domani di operarmi e poi mi faccio un po' di riposo e poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce però prima di tutto dobbiamo fare l'operazione.